Una lunga e appassionata conferenza stampa per Giampaolo Mazzola, da sette giorni ex primo cittadino di Angri. Al microfono della nostra direttrice responsabile Lucia Trotta, Mazzola lancia una serie di indicazioni, ponendosi come arbitro della prossima campagna elettorale provinciale, che potrebbe non avere proprio Mazzola tra i suoi candidati, e lancia una proposta. Il perché di Giampaolo Mazzola, dall'elezione alla crisi fino alla sfiducia, passando per tantissime situazioni di conflitto, non solo con un'opposizione come potrebbe sembrare più normale, ma anche con la stessa maggioranza, sono state oggi oggetto di una conferenza stampa dai toni, possiamo dire, anche un po' accesi? No, non solo non penso di essere stato con i toni accesi, ho dato chiarimenti di quelli che staranno i miei 21 mesi di amministrazione, di un sindaco di minoranza che ha tentato di portare avanti un progetto di sviluppo del territorio, prima condiviso da una classe dirigente che ha fatto la battaglia elettorale con il sindaco Mazzola, e poi una volta avuta la candidatura e quindi eletto, il programma elettorale doveva essere distrutto. Non hanno voluto portare avanti un programma elettorale, sono stati di ostacolo al mio sviluppo per la città e alla proposta di sviluppo. Il mio è stato un messaggio alla città e soprattutto una presa di coscienza di colori quali, sempre gli stessi, nell'ambito di vari colori politici, sfiducia attorno ai sindaci che possono dare delle risposte alle comunità. Una sfiducia non data al sindaco, a mio avviso, ma data alla comunità, perché la comunità aveva votato Mazzola, Gian Paolo Mazzola sindaco, e i consiglieri l'hanno sfiduciato. Non hanno sfiduciato quindi un sindaco per me, ma hanno messo in crisi di nuovo la comunità di Angri. Quando c'è stata la sfiducia, chi di maggioranza ha sottoscritto quel documento, ha sottolineato che poco centravano i ruoli dei partiti. In questo contesto, allora, come vive Gian Paolo Mazzola con la sua casa d'origine, che è il centrodestra oggi PDL? Guardi, non mi risulta che sia così, perché in un'intervista fatta dal mio vice sindaco è stata detta che è stata decretata dai vertici provinciali la sfiducia del sindaco Mazzola. Quindi, almeno a detta del vice sindaco, non disdetta però dai vertici provinciali. Per cui, io reputo opportuno che questo tipo di messaggio sia un messaggio artato ancora una volta per coprire chi vuole governare le nostre comunità senza però avere il voto del popolo. Facciamo un ragionamento politico a questo punto. È possibile che si possa creare un'azione di sfiducia in una fase delicata come questa? Cioè, tra pochi mesi si va al voto per l'elezione alla provincia di Salerno? Guardi, ma ormai loro, penso che hanno vinto, in testa loro hanno la vittoria già in tasca. Una vittoria che dovranno però spiegare ai cittadini angrizi soprattutto. Che è una vittoria alle provinciali dove la città di Angri è stata solo utilizzata per il potere di qualcun altro. Penso che i cittadini di Angri non siano così stupidi. capiscono che cosa vuol dire la carriera politica di qualcuno vicino all'altro mettendo sempre a repentino quella che è la volontà della città. Chi è il candidato? Chi potrebbe essere a questo punto il candidato della città di Angri per la provincia? Ma per la PDL? Sì, per la PDL. Guardi, se è vero che i vertici provinciali e quelli regionali, almeno da qualcuno, e qualcuno parla anche dei nazionali, abbia deciso di decapitare il sindaco di Angri, penso che chi l'ha decapitato dovrebbe essere candidato. Chi ha scelto di decapitare, cioè il vice sindaco, che ha tutti i poteri da parte del PDL, almeno da quello che sento, bisogna che si candida e verificare se è vero che porta i voti. Io mi sono candidato a portare i voti al Popolo di Libertà, all'ex Forza Italia. Io resto comunque di Forza Italia. unico partito che condivido, è preferibile invece di fare un processo di sviluppo all'interno del partito, essere un po' più vicini alle comunità che rischiano, come quella di Angri. Una domanda un po' provocatoria. Quindi a questo punto l'ex sindaco di Angri, Mazzola, che posizione prenderà per le prossime elezioni provinciali? Guardi, in conferenza sono stato chiaro. Angri ha avuto per quattro anni due sindaci, sfiduciati entrambi dagli stessi personaggi. Si fa vedere il voto di sfiducia del sindaco alla mura, ma non per difendere l'operato, ma comunque aveva anche lui lavorato. Ma poi sfiduciare lo stesso sindaco Mazzola, le stesse persone, dà un effetto diverso. Io forse ero un poco penalizzato perché sono stato eletto in minoranza e già per iniziare a governare abbiamo trascorso tre o quattro mesi per iniziare un equilibrio in Consiglio Comunale. Poi appena si è arrivato all'equilibrio e si è approvato il bilancio c'è stata subito la crisi politica. Alla crisi politica serviva ad arrivare a dicembre. Questi sono gli atteggiamenti di chi ha ragionato politicamente per non far crescere Angri. Si è arrivato a dicembre, si è approvato il bilancio, subito dopo si è messo di nuovo in crisi l'amministrazione. E come il sindaco ha preso i provvedimenti di allontanare coloro i quali frenavano questa amministrazione è stato defenestrato. Per cui reputo opportuno che la città sappia le motivazioni per cui il sindaco è stato sfiduciato e soprattutto sappia che oggi si fa un anno di commissariamento, bello duro, con la realizzazione però dei progetti del sindaco Mazzola. Perché su questo io chiederò ai cittadini di verificare e anzi mi proporrò ai cittadini, anche televisivamente con un programma, come ho detto, per spiegare i 21 mesi dell'amministrazione Mazzola. Lascerà liberi, possiamo dire così, il suo elettorato in questo momento? No, io non lascio liberi l'elettorato. Io ho detto, visto il voto di sfiducia per entrambi i sindaci di centro-destra e di centro-sinistra, il candidato alla provincia che farà la battaglia elettorale per la città di Angri, metterà al primo posto lo sviluppo della città di Angri nei progetti ma soprattutto nelle attività immediate, senza dover chiedere alla città di Angri ancora una volta un sacrificio politico, sarà quello che avrà il mio appoggio elettorale. Lei però si proporrà nuovamente come sindaco di questa città? Sicuramente, devo portare avanti i miei progetti, anche se non governerò questa città. Sarò propositivo per colui il quale avrà la forza di governare questa comunità. Io mi proporrò, mi proporrò con una lista civica, quella che avevo del Giamballo Mazzola sindaco, una lista che condivido per la città e una lista che darà l'effetto del proseguimento dell'attività svolta fino ad oggi.